Il famoso giocatore di calcio Mkhitaryan va a lasciare la nazionale armena, lascia l'Armenia a livello calcistico, l'annuncio arriva tutto nei social network di recente. Lo stesso Mkhitaryan ha scritto io darò tutto per la Roma, vi ricordo infatti che Mkhitaryan è un famoso giocatore della Roma che continua a essere un fantasista vero e proprio. Ha annunciato dunque il suo addio all'Armenia, la nazionale di calcio, per concentrarsi meglio e quindi di più sulla carriera del famoso club in questione a livello calcistico e probabilmente farà un rinnovo di contratto proprio con la Roma. Mkhitaryan è un Mkhitaryan che non si piange addosso, è un Mkhitaryan che vuole essere attivo, vuole proporsi a livello calcistico e di gioco con la Roma, dando il 100%, dando il massimo e non ha paura di esporsi come sta facendo già. La Roma per lui è tutto secondo la mia opinione ma secondo anche quello che si agisce sul web, la voglia di farcela, di essere garantista di giochi belli e positivi nonché piacevoli è tanta e lo stesso Mkhitaryan produce risultati di gradevole importanza e di bellezza incredibile. Complimenti dunque a Mkhitaryan, il video termina qua, questo giocatore dunque lascia l'Armenia di loro calcistico ma non abbandona la Roma che è il suo sogno e che continua a essere per lui il calcio più bello che ci sia. Il video termina qua, ciao da Leandro, narratore italiano.